L'energia nucleare ha i giorni contati in Germania. Il governo di Berlino ha approvato il pacchetto di misure che chiude le centrali e apre alle fonti rinnovabili. Il ritmo dello switch-off sarà più rapido di quanto annunciato la scorsa settimana dal cancelliere Angela Merkel, con nove dei reattori attualmente attivi che saranno spenti tra il 2015 e il 2022. Il loro arresto definitivo rappresenta di fatto un ritorno al calendario fissato all'inizio degli anni 2000 dalla coalizione formata da socialdemocratici e verdi. Questo è un successo per il nostro partito, naturalmente, ma non solo. È un successo di tutti coloro che da sempre protestano contro l'energia nucleare nei settori pubblico e privato. Nel corso degli anni è nata una maggioranza ampia e chiara contro l'uso dell'energia nucleare in Germania. Berlino punterà molte risorse sulla costruzione di centrali eoliche. Il costo dell'abbandono dell'energia nucleare ammonterà tra i 90 e i 200 miliardi di euro.